www.marizopoli.it, criptovalute, blockchain, ecco una ricerca del Politecnico di Milano inerente proprio a questo tema sull'amore per le criptovalute degli italiani nel 2022 e si è scoperto che ci sono interessi nonostante i fallimenti di FTX, di Celsius e di quant'altro per quanto riguarda il mondo del cripto, 7 milioni di italiani le hanno comprate nel 2022 e altrettanti 7 milioni si dicono interessati a comprarle nel 2023, un aumento per i progetti di blockchain del più 13%, quindi gli investimenti in Italia e nel mondo cripto hanno raggiunto 42 milioni di euro, il 50% in più del 2021. Come educatore finanziario noi diciamo sempre conoscere per decidere, per non cadere in mano alle truffe, alla fuffa e al gatto e alla volfe. Vi riporto qui l'articolo in interessante ricerca. Alla prossima!